Musica Quadrado, 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 un'azienda fantastica, e la squadra bianconera, Morata, doppio numero incredibile, scarico per Quadrado, avanto Don Hoyer, 2-0 per la Juventus, il raddoppio della Juve, con un gol fantastico di Quo Quadrado. Tutto nasce, al limite dell'area di ricore del Bayern Monaco, recupero rapido della Juventus, lo slalom di Morata è qualcosa di epico, in mezzo a quattro uomini, scarico con la punta e il piede per Quadrado, dribbling stretto, e Don Hoyer battuto, sul suo palo, 2-0 Juve. Attenzione a Morata, Morata, Morata al tiro, e la pari in rete, la Juventus è in vantaggio, con Alvaro Morata, è il numero 36, è cambiato il punteggio a Manchester, la Juventus avanti, con un gol stupendo di Alvaro Morata, un sinistro, a giro sul secondo palo, niente da fare per arte, addonito, lì fermo, Morata un gol favoroso. Zavoloso di Alvaro Morata, un sinistro a giro che ha lasciato di sasso tutti, questa l'azione, la palacchia abbastanza casuale in quel momento, Morata non ci ha pensato su due volte, sinistro meraviglioso, ricordate quello dell'anno scorso a Palermo, è qualcosina di simile, ma questo è molto, molto, molto più pesante, un capolavoro dipinto alle Tiazzetium da Alvaro Morata. Morata, va bene, settore per Morata, 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 è un bel fantastico, quello di Alvaro Morata, al diciottesimo minuto, bella ripresa, bella deliziosa, meravigliosa di Pompà. Il tiro di Pompà, con il barriere Pompà, con il Pompà, inizioni Morata, Alvaro Morata, Torino 1, Juventus 4, la doppietta è servita, Alvaro Morata. Il cross, ma non è dentro, il linea anticipato da Casillas, Vidal la mette in mezzo, attenzione Pompà, posizione regolare, di testa pull, verso Morata, Morata, ora da tiro, fa il rete, il pareggio della Juventus, con Alvaro Morata, ha avuto il 1-12, è cambiato il puteggio per Raveu, in Alvaro 1-1, Juventus 1, ho carico dell'ex, Alvaro Morata, Alvaro Morata, che non risulta come l'andata, esultanza anche di Buffon, esultanza in settore ospiti, 1-1, 1-1, il pareggio della Juventus con Alvaro Morata, proprio lui! Il campionato del Madrid, abbiamo detto, i calci piazzati possono essere importantissimi, Bravo Vidal a metterla in mezzo, Pompà a tenerla, colpo di testa, al calcio, Pento di Morata, sinistro, a bucare Casillas, e non la tiene, 1-1, il puteggio! Attenzione, l'apertura per Quadrato, Quadrato va a puntare la porta, Quadrato, Quadrato è cross, in mezzo, attenzione, Morata! La palla in rete, la Juventus è in vantaggio, con Alvaro Morata, al quinto minuto, nel secondo tempo su proletare, Morata! 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 Contromede perfetto della Juventus, Morata non sbaglia, alla prima palla, Alvaro Morata, questi sono i grandi giocatori!